Buongiorno a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video, sono Dexter Ti ricordi Rasta che ti salivo in testa? Allora ragazzi siamo nel parkour Finalmente con la Martina che è bravissima E due cose ragazzi Non chiedetemi perché prima di iniziare il video Vedevo la Martina nuda senza faccia E perché ho un cappello Ci sarebbe la canzone di Sergio Peste che si intitola nuda Se vuoi la metto? No, perché dopo devo mettere sotto forse Iniziamo col parkour ragazzi Allora Martina io ti dico questo parkour sembra difficile ma è facilissimo in realtà E almeno i primi stage sono una cavolata E gli stage ovvero i livelli I livelli Prima che vorresti li vedi in alto a destra Ora quando raggi Vedi la zona principale che ha una specie di blocco nero Quando tu hai finito di fare i salti Quando tu hai finito di fare i salti Praticamente devi schiacciare quel blocco nero Se non lo schiacci e non lo cadi Devi rifare tutto Quindi mi raccomando Ok se lo spazio Io sono stupido Sono completamente stupido Continuo a cadere No adesso comunque è la colpa del gioco Lo ammetto perché non mi partiva il salto Un po' semplice No, 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 no Martina Sì Sì I primi parkour Guarda Già il 4 No, non lo sai Ricorda qua Ok I primi parkour sono una cavolata Già dal 4 inizia a essere più difficile Più che altro non tanto perché è piccolo come parkour Sì, io ho già anche questa roba Ma tanto perché ci sono gente C'è gente che ci va sopra E quindi è un po' complicato Ho capito un trucchetto che vedo Questa roba C'è troppo A che stessi sei? Sono a quello sui gradini Quindi a 3? Sì Sono già morta Allora ho visto Io sono dal 4 però Oddio stavo per cadere malissimo Come si fa questa roba? E' semplice Mattia Non saltare all'infinito Non schiacciare Non te l'hai premuto il salto Magari stai per facilitarti un po' le cose Vieni un po' la ricorsa se mai Stai stronza Ma io ti ho detto no Mi viene ansia Adesso non starò Che figa della madonna che mi ha mandato la richiesta E' anche a me Che bomboni Io cosa guardo subito? Gli occhi Gli occhi No Non è possibile Non ci credo Ah Martina Io ti dico che sono arrivato ieri Esercitandomi un pochino Fino allo stage 40 Ma dopo se chiudo il gioco E lo riapro Cioè arrivando a questo punto Oppure mi fa rifare tutto? Eh no Ti fa rifare tutto Perfetto Ma che se Dove arrivare adesso? Ma io volevo concluderlo A dire il vero E' che mi sembra A quanto vedo impossibile Per te Vabbè Per te lo immaginavo Senso se No Sono morta Ma no Perché? Dai Martina Sono tre Facilissimo Mi viene ansia Questa roba Falta piano Non farli tutti di fila Ma tu sei quello Su giallo Vero? Si Ah quello Si Ci sto provando da mezz'ora Oddio ti prego Fammi andare Andiamo piano Oh L'ho fatta Questo qua E' un ostacoli Però Questo qua Raga E' un ostacoli Però E' molto più facile Perché Ci sono meno Zigzag da fare Martina Ma perché muoio Sempre là Io non capisco Quale sia La tua difficoltà A dire il vero Ancora Sto dico Aiuto Io mi ripeto ragazzi Questo è più semplice Perché ci sono meno Zigzag Anche se ci sono più Gli ostacoli Che se li tocchi Muori E' molto più semplice Secondo me Ah Martina Io adesso ti guardo Non saltare così veloce Ma no Oh mio dio Non devi saltare così Allora Martina Non devi fare così Vai Uno alla volta Quando hai fatto un salto Ti fermi Un secondino E poi vai Ok vai 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 Vedi Te ne mancano due Io Martina mi ripeto Guarda Io mi sento Profondamente Offeso Non ti muovi Oltre al fatto Che ti ho appena Infilato il pene Dove non dovrei Metterlo Se non Ti butto giù Ok Intanto io sono al 6 Martina tu devi ancora fare Il 3 Dai Martina Ti ho spiegato come fare Ho visto che hai capito Quindi Non dovrebbe essere Difficile C'è stato in mare Io sono al 7 Martina Purtroppo Non è che posso aiutarti molto Visto che Oddio Forse da lontano Riesco a vedere Dove devo guardare Non ne ho la più Valida idea No non ti vedo più Martina Ma non lo faccio Oddio Premi C'è Conta Assolutamente Che se muori Dopo Sei nella Merda Ma come faccio Andare qua Oddio Ok Io sono all'8 Martina Quello là Quello là Te lo dico È impossibile Questo Lo sto facendo adesso Quello con la striscia Gialla Un po' Non è tenso Allora io ti consiglio Martina Vai il più piano possibile Allora Quando devi arrivare Cioè Quando devi andare dritta Vai senza problemi Stai sempre attenta A regolare bene Il controllo Però Quando devi fare le curve Vai piano Va bene Consiglio che ti posso dare Altro non so cosa dirti Ti sto dando dei consigli Perché so che tu sei in difficoltà Se mai arriverai Allo stage 9 Ti dirò io I colori che devi prendere Ok Guardarti una mano Ti sto dando una mano Ma ti so che Sono complicati Per testi così Ok Ok Ce l'ho fatto Oddio Ti hai messo molto A quelli Ah si 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 Non mi ricordo No ma Però ho capito Qua all'interno Ce l'ho fatto Al primo tentativo Davvero? Oh Sei spillato su quelli Adesso Cosa devo fare? Adesso è molto Quello là Se è quello viola Mi sembra Giusto? No Se è quello Verde acqua e rosso Verde acqua e rosso Ah si Non devi colpire Quelli rossi Ah ok Se tu che quelli Muori Esatto Qualche una volta Vabbè io ho un percorso Dove se tu che il rosso Muori E' molto più complicato Te lo assicuro Però ce l'ho fatta Non ci credo No 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 Non ci credo No Non è possibile Sono morto proprio All'ultimo Non è possibile Oh mio dio Non ci credo Non so se stanno mandando Le moglie delle risate Per me Anche se ho dubito Però Deve sempre essere Che ne sei Vai No 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 Martina a che stage sei? Madonna È più complicatissima A che stage fai Martina? Questa è una verde acqua Ancora? Sì non riesco a farla Vabbè quello è semplicissimo Martina È veramente una cagata Quelli Se sei felici da fare quelli là Piccolissimi Vada veramente Quelli là Sono una cavolata Ma so stronzo mi ha vinto Ma non è possibile Ma vai via Deficiente Che mi spinge Piano Vai avanti Porco il suino Ah Non è arrivata a metà Lo posso amare No 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 Ah Questo qua Fa sclerare un botto Ah Ti debile No 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 Madonna Con questa gente che va avanti come millepiedi e sono lenti come la morte. Ma non mi fingere! Ma io non lo so, ragazzi. Allora, adesso vado piano anch'io come un bradipo. Ok. Non ne posso, sì. Martina, siamo a metà video, te lo dico. Metà video? Eh, sì. Beh, se ci rinuncia a sta roba... Ma perché? Beh, no, ma se non ti vedi... Impegnati, impegnati! È una caccia! Io impegno, ma se non so fare sta roba, non la so fare! E impegnati! Anche io faccio schifo sui parkour, però almeno... Cioè, non è vero, sono va bene. Perché cambiamo modalità se non sai farlo neanche tu? No, questo è difficile. Ma gli altri sono... Quello là, Martina, che stai facendo tu è veramente una cacata. Quello è veramente una cacata. Sai cos'è? La prossima volta lo facciamo insieme? Cioè, io ti aspetto. Così ti mostro come... E te l'avevo detto! Te l'avevo detto, te sei andato avanti. È perché pensavo... Va bene, dai, Martina hai ragionato, scusa. Vieni qua, dove sono io? Io ho capito, Martina. Tu sei allo stage, numero... Sì, sei. Eh, io devo rifarmi altri sette livelli indietro. Anche no? Eh no. No, perché io volevo completare la mappa, ma se siamo a metà video non abbiamo fatto un cazzo. A sto punto si rimane. Ma perché questo mi sale in testa? Ma io... Guarda, sto qua mi sta proprio sulle palle. Mi spinge Mi spinge. Dai, Martina! Ma quanto può essere difficile fare quello? Io anche ti guarderei, il problema è che non... Ok, quello è il numero tre. Forse... Vagamente potrei riuscire a vederti. Però mi dovrei avvicinare di qua. Ah, sei quello su Eroby Rosa Eh, ma non so dove stai tu E io sono qua Sto saltando qua Mi vedi? No Non ti vedo Martina, aspetta, provo Ah, non ti vedo lì Però ho capito No, no, no Non ti vedo No, 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 no No, 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 no Dive se mi devo guardare Martina Un attimo, forse ce la faccio Io non riesco ad orientarmi, questa mappa è gigante Allora Che non è, lo tu sei Dove delle palle rosse, no Eh Praticamente di fronte ci sono Di fronte, a sinistra o a destra Di fronte. Ah, ok. Cioè, alla tua sinistra. Ok. Stai saltando, vero? Sì. Non... Salta, lo sto facendo dei saltini, mi vedi? No. Sono qua dove derrobo arancione. Dove derrobo arancione? Martina, non... Ma... Non ti vedo, Martina. Non riesco a suggerire adesso. Sto provando. Allora tu dovresti essere. Prova! Martina, prova! Oh, non ti vedo, Martina. Frenzi, te lo smette! Oddio, grazie, signore! Grazie, signore! Mi hai fatto perdere un po' di temore. E questo qua è veramente una cosa impossibile da fare. E questo, viola, come faccio a farlo? Ok. Come faccio a fare sta torre? È una cavolata, voglio Martina, veramente. Non puoi morire lì. È impossibile morire. Devi sempre andare a destra e saltare. Quello è uno dei più semplici, come va bene. Forse io ci credo che c'è da fare. Se ti blocchi su quello, ti denuncio. E sono morte. No, 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 non ci credo. Ma stai scherzando? Uno ha parole. Eh no, in alto sono morte. Sono negata su sta roba, senti? Ho capito, ma è possibile sbagliare lì? Io sto facendo una scalinata con le scale che scompaiono e ce la sto facendo senza problemi. Boh, beh. Senti, è la prima volta che c'è questa roba, quindi... Aspetta Martina che mi sto concentrando. Oddio, oddio. No! Oddio sì! Ok, ok, ce l'ho fatta. Sono al 19, Martina. Forse da qua ti riesco a vedere, eh? Non vorrei... Martina, ti metto sotto, per favore. Ok, Martina. Oddio, ti vedo, ti vedo, ti vedo. Martina, guarda proprio su, dove c'è quella roba gialla. Sopra di te. L'ho visto, visto, Franci. Guarda, sto saltando, mi vedi? Sì, sì. Ok. Ti sto guardando. Anzi, facciamo così, così ti vedo ancora meglio. Guardami, Martina, sono praticamente dove sei te, guarda. Mi vedi? Oh, Martina. Sì. Sono qua. Dove è del robo... Dei ostacoli? Dove è del... Ponte Arancione? Del Ponte Arancione. Dove stai guardando te? Sono leggermente più a sinistra. Ehi, sono qua. Ciao, 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 ciao. Ma stai continuando a morire, Martina? No. Ah, ok. Sono a morire. Siamo a fianco, praticamente. Eh? Siamo a fianco, praticamente. Eccoci! Ciao! 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 Io sono al 21. Madonna, che ansia, sarò. Perché sono morto? Non ho capito. Non ho capito. Te l'ho fatta. E adesso dove vado? Sono sopra, dove vado? Eh, non so dove stai, Martina. Sopra è stata torre. Ah, ok. Allora, adesso ti devi buttare... No, dall'altro lato, Martina. Vedi dove ci sono quei cubi rossi? Ti devi buttare su quel... Hai preso? Vedi quel robo nero? Dall'altro lato, Martina. Dall'altro lato. Eh, ok, ok. Ti butti su quel quadrato con il robo nero. È facilissimo. No, fermate. No, no, non ci credo. No, no, io... No, non ci credo. No, Martina, non è possibile. No, non ci credo. No, adesso io chiudo. Concludiamo perché non ne posso stare. No, Martina, dobbiamo arrivare a 20 minuti. Porta pazienza. Non chiuderai come l'ultima volta che ti ammazzo. No, per favore, no. Porta pazienza. Devi essere nel video. Porta pazienza. Mancano due... Poco più di due minuti, dai. Porta pazienza. Passateci. Non lo dirò mai perché passateci. Allora, io non ti vedo... Allora, io sono... Dove delle palline qui? Non sono, non sono tre. Ecco, ti vedo, ti vedo, ti vedo, Martina. Ma tu non credo? No, non ci credo. Sei tu quella là su quadrato? Sei tu quella su quadrato? No, non ci credo, Martina. No, no, non ci credo. Ma perché? Sono roba nera, tu guardi a destra. Ti credo che muori. Eh, non lo so, Martina. Allora, ragazzi, io vi dico anche che interrompo il video. Io e la Martina andiamo avanti un pochino. No, 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 cari. No, dai. Ma per favore, no. No. Ti tolgo una mano, Martina. Ma non voglio la tua mano, non mi serve. Ma qua era a sinistra, sinistra. La mia vita è in retto, sì, non sta qua. Allora, dai, Martina, porta pazienza. Boh, ho scoperto per un euro. Qua era a sinistra. Sono veramente facili da fare. Oddio, 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 oddio. Bene. Benissimo. Allora, Martina. Facciamo così. Allora. Allora, ragazzi. Facciamo una cosa. Allora, tu, Martina, io ti faccio uscire. Però, mi devi intanto fare un'altra cosa di Roblox. Qualsiasi cosa che tu voglia. Mi scivoli. Va bene. Basta che giochi a Roblox e non a Brawl Stars, va bene? Ma perché devo giocare a Brawl adesso? A qualsiasi cosa di Roblox, quello che vuoi. Un hotel park, un altro ce n'è. Eh, vuoi fare quello, va bene. Raga, noi vediamo quando avrò finito il parkour, perché mi vuoi un pochino. Raga, la situazione attualmente è questa. Sono sulla testa dell'omino. Sono a livello 58. Aiuto. Raga, sono a livello 58. Non so quando ci siamo lasciati, però... Mi sa che sono più avanti di tutti, perché questi qua sono scarsi come la morte. E non vorrei dire, cavolate, ma forse ho finito. Però... No, non mi dire. Non mi dire. Dimmi che è finito. Non è finito. E niente, ragazzi, ho trovato quello più difficile di tutti. Lo stage 70. Ok. Ce la sto facendo. Ce la sto facendo. Vai. Vai, 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 vai. Oh mio Dio. Dopo 30 anni ci sto riuscendo. Questo qua è il livello più difficile che ho mai fatto fino adesso. Dura 30 anni. Oddio, dai che ce la faccio. Dai che forse ce la faccio, raga. Dai che forse ce la faccio. 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 Oh mio Dio, sì. Ce l'ho fatta. Ed io che credevo che fossero 50 livelli. Sto per morire. 100. 100 non è ancora finito. Per piacere. 100. Ragazzi io mi fermo qui perché sono arrivato a 116 livelli. E ve lo dico è qualcosa di impossibile secondo me. Ci sono livelli infiniti quindi. Cioè guardate lì come quanto continua. E quindi ragazzi io mi fermo qui perché veramente è un parto fare sta mappa. Quindi niente. Spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito se vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace. Iscrivetevi al canale, ti fate la campanina per farvi nessun video. Seguiteci sui saluti, trovate tutti i giorni e vi sono sul canale. Sto facendo un video papà. Quando finisce non finire mai più. Non arriverò mai più in questa parte. Bella ragazza. Grazie. 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 Grazie.